Il Vangelo di questa domenica Ci racconta la storia di un uomo che ha grandi sogni Un uomo che sogna una vita piena, una vita realizzata, una vita felice Sicuramente è anche il sogno di tanti di noi Che sogniamo per noi una vita così bella Ma c'è qualcosa che ostacola il sogno di quest'uomo Quest'uomo non è veramente libero O meglio, ciò che non è pienamente libero E il suo cuore troppo attaccato ai suoi beni E per questo poco pronto a lasciare tutto per seguire il suo sogno Solo i cuori liberi possono essere davvero felici Spesso è Dio ad allargare la cruna del lago Per farci passare il cammello Cioè spesso è Dio a togliere nella nostra vita Per renderci veramente liberi Per renderci veramente felici